Con la vittoria per 1-0 in casa del Mascaluccia, sabato scorso il calcio giarre di mister Salvo Giordano ha compiuto un sostanzioso passo verso la promozione diretta in prima categoria. Questo perché contemporaneamente la capolista villaggio Sant'Agata cadeva nel derby con il Catani FC e il Pedara pareggiava clamorosamente a reti bianche in quelle di Castel di Iudica, ultimo. Per i colori gelo-blu significa accorciare sul meno 6 dai catanesi e mettere ben 7 punti tra se stessi e il Pedara, terzo. Per la promozione diretta si materializza quindi una doppia chance. Ne abbiamo parlato oggi con uno dei dirigenti della squadra, Gabriele Tetto. Sì, inaspettato il risultato del villaggio Sant'Agata si è aperta adesso quest'altra prospettiva, chiamiamola così, della possibilità di giocare anche per il primo posto. L'idea iniziale appunto era quella di mettere 10 punti tra voi e il Pedara, adesso sono soltanto, tra virgolette, 7, però come ha detto lei si è aperta questa opportunità di giocare alla penultima di stagione regolare, uno scontro diretto che addirittura vi potrebbe dare la prima posizione. Sì, si è aperta questa strada e noi comunque continuando a valutare la situazione partita per partita pensiamo intanto ai tre punti contro l'FC Catania, partita che si prospetta difficilissima visto appunto il risultato dell'FC nel turno appena trascorso con la vittoria sulla capolista. Per quanto riguarda il progetto giallo-blu del calcio giarre, questa doppia chance di promozione e quindi diciamo l'idea di poter arrivare materialmente a questa promozione. Cambia qualcosa rispetto appunto ai progetti iniziali? No, 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 non cambia niente perché dovrebbe essere comunque il coronamento della stagione e il solito di categoria, il coronamento di tanti anni di sacrifici e di risultati ottenuti e ci tengo solo sul campo, quindi nessun acquisto di titolo, nessun cambio di denominazione da sette anni lottiamo e conquistiamo titoli sul campo e portiamo alto il nome della città. Sono tre finali, sono tre finali in attesa dei play-off che potrebbero non esserci e ce lo auguriamo perché sarebbe il coronamento del Villaggio Sant'Agata e della nostra squadra poter arrivare in prima categoria senza affrontare i play-off nell'una e nell'altra. Penso che il campionato, ho parlato chiaro, ce lo meritiamo il salto di categoria possibilmente senza passare dalla roulette russa dei play-off.